Abbiamo creato il nostro file index.html con scritto un bel niente al suo interno quindi si potrebbe pensare che questa pagina non funzioni ma in realtà funzionerà lo stesso all'interno di un browser proprio perché c'è un'estensione che si chiama appunto html qui dentro la nostra cartellina abbiamo il nostro file per aprire il file possiamo fare doppio clic sul file sarebbe il caso che si apra con opera quindi se quando fai doppio clic non si apre con opera è perché non è impostato come predefinito quindi puoi fare tasto destro, apri con e vai a sceglierti opera sarebbe il caso che usi opera in questo momento poi più avanti nelle lezioni potrai usare quello che vuoi quando capirai meglio il funzionamento anche del browser oppure puoi prendere il file e trascinarlo sopra l'icona o addirittura entrare dentro opera qui opera, fare file, apri file e andartelo a cercare quindi fai semplicemente doppio clic si aprirà questa pagina qui e in questa pagina qui come vediamo non c'è scritto assolutamente nulla ma nella barra degli indirizzi questa è la barra degli url dove solitamente scrivi www.google.com www.apple.facebook.quellochevuoi oppure il nome del tuo futuro dominio ovvero il tuo futuro sito internet quindi come si vede qua ora non si utilizza nessun www nessun http e niente proprio perché questo file è all'interno del mio computer come si vede qua c'è il percorso che avevamo visto all'interno del terminale user al dev che è il percorso dove risiede il mio file udemy frontend udemy frontend index.html ora prima di proseguire andare a scrivere anche solo due linee all'interno del codice ti spiego un minimo di agilità che devi assolutamente imparare con il computer quando si sviluppa con una pagina web spesso bisogna cambiarsi da atom a il browser o atom e il terminale atom e il finder o dove vogliamo quindi smettiamo immediatamente di girare dopo col mouse clicca qui clicca là clicca su clicca giù perché altrimenti non finiamo più quindi memorizzare questa sequenza di tattiche è semplicissima allora per fare questa cosa qui quello che sto facendo semplicemente dobbiamo premere il tasto command mantenerlo premuto o il tasto control se hai windows mantenerlo premuto e ogni volta che andiamo a premere il tab della tastiera quindi mantengo premuto command e poi premo una volta il tab un'altra volta il tab un'altra volta il tab ogni volta che premo il tab mi cambio di applicazione quindi ora io sono all'interno del browser voglio andare in atom non andrò qui con il mouse e cliccherò su atom ma bensì non toccherò neanche il mouse farò command tab mi vado a posizionare su atom qua scrivo ciao a te punto esclamativo command s per salvare il file ricordiamoci perché altrimenti non succederà nulla o ctrl s per windows adesso io non ripeterò sempre ctrl s l'importante è che lo memorizzi tu io dirò sempre command s se hai windows dovrai saprai che è ctrl s quindi command s salvo il file premo command tab vado in opera non è successo assolutamente nulla per il semplice fatto che bisogna rinfrescare il browser perché noi abbiamo semplicemente fatto una modifica all'interno di atom quindi per rinfrescare il browser possiamo cliccare sopra questo pulsante qui la girella questa freccetta che gira con scritto aggiorna clicchiamo una volta ed ecco scritto ciao a te ora anche questa cosa qui di andare qui e cliccare ogni volta aggiorna dopo un po' fa venire un po' un po' di rottura quindi command tab ancora una volta entro in atom e scrivo ciao a me command s command tab mi posiziono in opera e questa volta faccio command r o ctrl r sarà per windows e come si vede ciao a me e ciao a me quindi fai un po' di esercizi facendo così ciao a tutti command s tab va in opera command r e così questo è il flusso che devi imparare a utilizzare ciao a tutti oggi command s e questo è sempre la solita cosa per diventare veloci ora magari ciao a te e come si vede qui già ci viene scritto qualcosa ora supponiamo che io voglio andare a capo qui e scrivere ciao anche a me punto esclamativo command s vado di qua rinfresco e come si vede ciao anche a me viene scritto di fianco non viene scritto sotto questo perché? perché dobbiamo andare a utilizzare i tag html a me